Oddio ma sei tu, sei proprio tu fatti da un abbraccio quanto ho sentito la tua mancanza in questo anno Come stai? Allora ti è piaciuto il viaggio sul polar jet e il tour della casa degli elfi? Io spero di sì, ci tenevo da matti e tu ti sentissi accolta in Alburo Nord dove per noi è casa tutto l'anno e c'è magia tutto l'anno Voglio che quest'anno ancora di più sentissi con te la magia del Natale Per te oggi ho diciamo tantissimi regali Scambierò un po' i ruoli con il ruolo con mio marito Perchè? Ho un sacchetto pieno di toni sonori Che non vedo l'ora di condividere con te Allora In questo cianchetto ci sono tanti oggetti che secondo me fanno un suono splendido E che spero riusciranno a calmare un pochino la tua agitazione da vigilia di Natale Io so che non vedo l'ora di domani Non vedo l'ora di mangiare tanto e bene Non vedo l'ora di aprire i tuoi regali Non vedo l'ora di passare il tempo con le persone che ami E hai molta fortuna poter fare tutto ciò Perchè non tutti possono farlo E oggi voglio condividere un po' di sogni appunto che possono calmarti Perchè so che la viglia di Natale si fa fatica a dormire Ma se non dormi Babbo Natale come fa a entrare e a portarti i regali giusto? Quindi ci penso io a farvi dormire Andiamo a pescare Ok ho scelto il primo Molte delle cose che ho scelto per te Sono giochi sensoriali Ma cosa vuol dire? Sono giochi fatti per stimolare i sensi Ma oggi andremo a dedicarci all'udito Sono giochi che si usano anche per l'apprendimento Sono molto interessanti Ti lascia sentire questo tubetto magico Oh no non ti posso dire cosa c'è dentro Però se vuoi puoi provare a indovinarlo Sono fatti a mano dai nostri elfi Perchè sono ancora più speciali E sono fatti come vedi con oggetti recupero Qui c'è il cartone Qui c'è il cartone Qui c'è il tessuto E dentro c'è un altro cartone Ti piace il suono del Vogue? Qui c'è il cartone 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 Ok..passiamo al secondo suono D'accordo? Fammi pescare e si è bello grosso proviamo questo hai caldo? hai freddo? stai buona? la mia priorità sei tu in questo momento ok bene 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 ti presento il secondo oggettino magico come vedi sono tutti oggetti molto particolari questa è una spazzola ancora all'interno delle stelline ti piace? guarda che meraviglia come è hipnotico come è hipnotico ora senti tutte le stelline ora senti tutte le stelline questo suono che bellezza intanto che ti faccio ascoltare qualcosina sempre per calmarvi e farti addormentare raccontami un po' com'è andato il viaggio non so cosa ti ha colpito di più cosa ti è piaciuto di più? ok ok sono contenta che il volo sia stato piacevole hai guardato qualche film di natale? hai fatto bene? hai guardato elfa? beh ben seccatissimo ok vediamo 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 andiamo a pescare ancora proviamo a capire cosa c'è qui dentro c'è qualcosa che tin tin andiamo a scoprire cos'è andiamo a scoprire cos'è anche questo è un oggetto molto speciale questa collana è fatta a mano come vedi come vedi non è perfetta ma il suo bello è questo ha tutte queste questi ciondolini che creano queste tintine immagino? queste perline senti qui per me per me gli oggetti che hanno dietro tanta cura tanto amore sono i migliori e lo senti che sono speciali e in un qualche modo senti che sono speciali perché che hanno quel qualcosa in più hanno quel qualcosa in più che sono preziosi perché qualcuno ha invitato tanto tempo a a farli a crearli un po' come i nostri ragazzoli no? c'è tanto amore dietro per questo che vengono apprezzati costantemente direi a che ho bisogno di rilassarmi anche io questa serata ho bisogno di rilassarmi anche io questa serata perché questa serata è un po' la serata clou di tutto quest'anno di lavoro e voglio che va tutto bene bene ma non dipende più da me io ci ho fatto tutto quello che dovevo fare adesso basta aspettare questa notte lunga e magica e misteriosa e imprevedibile e non sai papà Natale quanto ne racconto la storia la storia ad esempio chi sa benissimo quali case hanno i cammini e quali invece deve entrare in maniera diversa ma a volte all'ultimo le persone chiudono i cammini o non ti dico i lividi che si prendono povero papà alla sua età ovviamente abbiamo lievi infernieri però povero papà ok è l'ultimo regalo sonoro troviamo questo qui questa è una pallina contenente della neve che però sempre per magia rimane quell'interno e rimane tutto l'anno e si crea questo suono molto particolare scommetto che non hai mai sentito questo questo che spazzo è una natura resistente perché appunto deve proteggere questi fiocchi di neve non è vero non è vero non è vero è vero è vero eccoci qua io davvero sono contentissima di averti vista che quest'anno ormai è diventata una bellissima tradizione e un uccellino mi ha detto che ami tanto quando diceva la buonanotte in tante lingue diverse e che ami quando proprio spengono le luci e piano piano ricevi la buonanotte e quindi volevo farlo no? ok molto bene se ti rende felice io sono contenta di farlo mettiamo via anche questa pallina e... com'è che ti piaceva? aspetta io penso proprio penso proprio penso proprio io penso proprio sia giunta allora a passare le luci e augurarti augurarti augurare a te il mio stellino il mio cuoricino il mio piccolo pan di zenzero una buona 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 buonanotte buonanotte soñir sonidor 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 buonanotte sweet sweet dreams buenas noches buenas noches dulce come oggi buon noi buon noi buon noi vete show your hair show your hair good night good night have you le canost vediamo in portoghese buon anno oddio qui forse ho sbagliato buon anno dormi bene che domani è un grande giorno goditelo pieno non perdati neanche secondo di questa magia e di questi momenti passati con le persone a cui vuoi bene non sono il regalo cosa più importante è la condivisione di questo momento io ti mando un bacio un apprezzo e ti auguro una buon notte che li spera che spera che spera se vuole se vuole non pei Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.